Buongiorno, oggi vediamo l'effetto di una variazione del prezzo di un bene sulle scelte dei consumatori. Partiamo da un vincolo di bilancio che ci dice le combinazioni dei beni che possono essere acquistati dato i prezzi dei beni e il reddito. Quindi graficamente il vincolo di bilancio è rappresentato da una retta con pendenza data dal rapporto tra i prezzi e intercetta data quindi dall'income diviso il prezzo px e income diviso il prezzo py. Ora supponiamo che il prezzo aumenti, supponiamo che aumenti il prezzo del bene x, quindi che diventi px' più grande di px. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nella nostra equazione iniziale del vincolo di bilancio è cambiato questo termine. Graficamente questo significa che il vincolo di bilancio si tralla ed è quindi rappresentato da questa retta che ho tracciato in rosso dove la pendenza ora è meno px' diviso py. L'intercetta sull'asse delle x è rimasta uguale mentre l'intercetta sull'asse delle x è diventata income diviso px'. Ora chiediamoci che conseguenze ha questo aumento di prezzo per il consumatore. Le conseguenze che ci sono sono due. La prima è che il bene è diventato più caro e quindi è probabile, anzi è certo, che il consumatore tenderà a sostituire un po' del consumo del bene x che è diventato più caro acquistando un po' più quantità del bene y. E questo è quello che vedremo, sarà l'effetto sostituzione. Vi è tuttavia anche un altro effetto e cioè il fatto che il consumatore è di fatto più povero a seguito dell'aumento del prezzo di un bene. Appunto è come si dice cioè che il consumatore ha un potere d'acquisto più basso, cioè in termini reali il consumatore ha meno possibilità di acquistare non può acquistare lo stesso numero di beni che aveva prima. Facciamo un esempio molto semplice per capirci. Se il prezzo del bene x fosse 1 euro e il reddito disponibile fosse 100 euro e il consumatore volesse anche soltanto comprare tutta la quantità del bene x potrebbe comprare 100 unità del bene x. Se il giorno dopo si sveglia e il prezzo del bene x è 2, il consumatore ora ha sempre il suo reddito nominale di 100 ma può soltanto comprare se volesse spendere tutto il suo reddito nel bene x soltanto 50 unità del bene x. E quindi appunto di fatto si dice che il reddito reale cioè in termini di cose che il consumatore può acquistare è diminuito. Quindi abbiamo questi due effetti che sono l'effetto reddito effetto sostituzione che fanno parte di un effetto globale che si chiama appunto effetto prezzo o variazione registrata. Vediamo graficamente di cosa si tratta. Allora partiamo da una situazione iniziale, una situazione di equilibrio in cui il vincolo di bilancio e la curva di indifferenza sono tangenti in questo punto che chiamiamo E1 a cui corrisponde una quantità x1 che sarà anche una certa quantità y1 ma per il momento ci focalizziamo soltanto sulla quantità del bene x perché è quella che ci interessa. Quindi questo ci darà a questo paniere un'utilità U1. Il prezzo cambia, abbiamo detto supponiamo che aumenti, quindi il vincolo di bilancio diventa più pendente come abbiamo fatto vedere prima e si raggiungerà un altro equilibrio per esempio qua dove la nuova curva, il nuovo vincolo di bilancio è tangente a un'altra curva di indifferenza che chiamiamo U2 e chiamiamo in questo punto xe2 con una corrispondente quantità x2. Ora, quello che vediamo, quindi questa variazione della quantità di x è il cosiddetto effetto prezzo, cioè per un aumento di prezzo il consumatore inizialmente appunto consumava x1 e ora consuma x2. Però noi sappiamo che l'effetto prezzo va scomposto in due, effetto sostituzione e effetto reddito. Come facciamo a scomporre l'effetto sostituzione e effetto reddito? Per farlo dobbiamo mantenere il reddito reale costante. Cioè cosa vuol dire? Dobbiamo per così dire indennizzare o compensare, la parola forse più corretta, il consumatore con un aumento di reddito a fronte di un aumento del prezzo delle BNX tale per cui il consumatore ha lo stesso livello di utilità iniziale. Graficamente cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo trovare quel vincolo di bilancio con i prezzi nuovi, quindi per capirci la retta rossa tale per cui questa sia tangente alla vecchia curva di indifferenza. Perché? Perché così appunto abbiamo lo stesso livello di utilità iniziale. Quindi grosso modo sarà una retta di questo genere. Quindi la retta rossa e blu sono parallele e questo è un punto che in realtà non si raggiunge mai ma ci serve per appunto scomporre l'effetto reddito in effetto sostituzione. Perché? Perché quando, quindi questa avrà ovviamente una corrispondente valore di X che chiamiamo XC. Quindi quando ci spostiamo dal punto E1 al punto EC, quindi quando la quantità si riduce da X1 a XC, vuol dire che stiamo vedendo come il consumatore riduce il consumo del bene X a parità del potere di acquisto. Quindi questo è l'effetto sostituzione. Cioè il prezzo del bene X è aumentato. Io lo indennizzo, diciamo lo compenso, dandogli un reddito che potenzialmente potrebbe comunque comprare la stessa quantità del bene che aveva prima e quindi guardo come in realtà il consumatore sostituisce perché comunque è vero che il consumatore è stato compensato, però è anche vero che il prezzo del bene X in termini relativi è ora più caro rispetto al bene Y e quindi appunto come diciamo il consumatore tende a sostituire un bene con un altro. E quindi questo rappresenta appunto l'effetto sostituzione. Quindi possiamo segnarlo nel questo segmentino qua è un effetto sostituzione, chiamiamolo ES. Quando ci spostiamo dal punto EC al punto E2, quindi quando prendiamo questo segmentino, questo è l'effetto reddito. Perché? Perché stiamo considerando gli stessi nuovi prezzi e vediamo come il consumatore varia il consumo, il suo consumo a fronte di una riduzione del reddito. Ora se osserviamo quando passiamo dal punto EC al punto E2, stiamo dicendo che il reddito è diminuito e questo ha come implicazione che la quantità consumata del bene X è ridotta. Quindi possiamo leggere questa implicazione anche in maniera speculare, cioè se aumentiamo il reddito la quantità del bene X aumenta. Un po' come un'equazione se mettiamo meno 1 uguale a meno 1 o 1 uguale a 1. Quindi cambiamo semplicemente i segni. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il bene a cui siamo di fronte è un bene normale. Perché? Perché i beni normali sono beni che sono caratterizzati dal fatto che se aumenta il reddito la quantità consumata aumenta. Quindi questo era appunto un esempio di come scomporre l'effetto reddito e l'effetto sostituzione nel caso di bene normale. Vedremo in una prossima clip che nel caso di beni inferiori l'effetto reddito sarà invece di segno opposto. grazie per l'attenzione e spero che questo video vi sia stato utile per il vostro apprendimento. Buono studio!